La nostra università è una buona università e io sono convinto che se ciascuno di noi abbandona i toni esasperati e lavora con maggiore serenità, noi riusciamo a mantenere i risultati che avevamo già nel passato e possiamo continuare ad avere nel futuro e migliorando anche le prestazioni complessive di questa università. Ecco professore, quali sono ancora oggi i punti di debolezza dell'Ateneo dell'Università delle Calabria? I punti deboli, io guardo i punti di forza, i punti di forza è che ci sono diversi settori che sono dei settori outstanding a livello nazionale, a livello internazionale, che ci sono dei corsi di laurea che funzionano molto bene, che i corsi di laurea in cui la gente riesce a trovare il posto di lavoro, i nostri laureati che sono valutati molto bene dal mondo del lavoro, ovviamente forse la connessione col territorio potrebbe essere più efficace, chiaramente tutti quanti hanno delle limitazioni, però io sono dell'idea che piuttosto che puntare a sottolineare quali sono le limitazioni, bisogna puntare a superare, ad aiutare a superare le limitazioni. Io devo essere sincero, non ho votato il rettore, tutto sommato sono più concentrato in attività di didattica, di ricerca e industriale e di trasferimento tecnologico, mi sarebbe piaciuto completare la mia carriera senza dover affrontare nuove sfide, però la situazione attuale di questi disastri della neve è che non bisogna solo parlare, discutere, qui c'è bisogno di spalare, quindi quando c'è bisogno di spalare è l'utile farse delle fisime. E a proposito di questa metafora che lei ha usato proprio di spalare, che cosa ne pensa di questa cherelle, di questa frattura che c'è appunto nell'Università della Calabria, qualche studente, qualche docente appunto che non ammira molto l'operato del rettore Crisci? Ecco, ammirare, chiedo che un docente, quando uno fa il docente non è che pensa di fare l'attore, di avere l'audience, uno fa il docente, si candida l'attore per ottenere dei risultati. A volte penso di stare io in una fiction, nel senso che se uno dice, tu, io ti ho votato rettore, adesso dopo tre anni capisco che non mi vai più bene, ma insomma non è che una persona ha cambiato in tre anni, è un po' come uno si lamenta, dice ti lascio la ragazza, ti lascio perché non sei biondo. Ma lo sapevi anche prima. Il fatto di essere biondo era già noto prima. Quindi io ritengo che non bisogna mai accontentarsi, bisogna sollecitare chi sta al potere in modo di accorgersi degli errori, non bisogna mai, però bisogna, il nostro obiettivo non è il rettore, non è i singoli individui, ma questa università e soprattutto il territorio e i nostri studenti.